Un altro tipo di fallacenza è l'argomentum advene cuntiam. Esso altro non è che il famoso ips ed icsit. In latina advene cuntiam significa tuo è timore verso un'autorità che è ritenuta indiscutibile e intoccabile. Ips ed icsit invece significa lo ha detto lui stesso, quindi ciò che è stato detto deve essere per forza vero. Dal punto di vista logico non esistono regole di inferenza che trasformano in verità delle cose dette da qualcuno solo perché è ritenuto essere un'autorità. Questo errore ha fermato il sapere per millenni. L'esempio più banale che viene in mente è l'autorità di Aristotele, considerata quasi dogma di fede per quasi duemila anni. Per questo io dico sempre che la logica ha in sé gli strumenti dello spirito critico e della mentalità filosofica antidogmatica. Ma bisogna trovarli ed impararli ad usare. Altri esempi sono questi. Se lo dice la comunità scientifica deve essere vero per forza. In teoria sembrerebbe giusto, ma nella scienza non ci sono verità assolute, le cose sono vere fino a prova contraria. Al massimo finché non c'è la prova contraria dobbiamo fidarci. Ma non è di vieta di cercare noi stessi questa prova contraria, ma ovviamente rispettando la logica e il metodo della scienza. Anche in politica esistono autorità considerate indiscutibili come l'Europa o le Nazioni Unite. Purtroppo nella vita sono molte, anzi troppe le circostanze in cui dobbiamo per forza affidarci a delle autorità. E questo è un problema, significa che per la maggior parte delle cose noi rimarremo all'oscuro di come stanno veramente. Anche se il compito della filosofia è proprio quello di mettere in discussione le autorità e il pensiero comunemente accettato, a costo di andare fuori di testa. Un sottotipo di argomentazioni ad venecundiam sono le argomentazioni ad populum. Esse corrispondono al detto latino vox populi, vox dei. E quando si considerano il senso comune, l'opinione della massa, la tradizione, i proverbi popolari, o l'opinione della maggior parte delle persone come autorità è indiscutibile. Da ciò, almeno in parte, derivano il conformismo e il pensiero unico. Grazie a tutti.